E' in corso, dall'alba di oggi, una maxi-operazione dei carabinieri di Trapani che hanno eseguito 13 arresti nel feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro, primula rossa di Cosa Nostra. In carcere anche Francesco Domingo, ritenuto dagli inquirenti boss di Castellammare del Golfo e secondo i magistrati vicino a Messina Denaro. Domingo ha già subito diverse condanne anche per l'associazione mafiosa e secondo quanto emerge dall'indagine, dopo ogni scarcerazione sarebbe tornato a guidare il mandamento mafioso di Castellammare del Golfo. L'inchiesta è coordinata dalla Didia di Palermo. Tra gli indagati è anche il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, eletto nel 2018 con una lista civica di centrodestra. All'alba sono stati perquisiti il suo ufficio e la sua abitazione. Le accuse a carico dei 13 indagati vanno dall'associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro. Tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Nell'ordinanza era inclusa una quattordicesima persona ma nel frattempo è deceduta. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero. Eseguite inoltre decine di perquisizioni tutt'ora in corso. L'operazione ha visto impegnati oltre 200 militari dell'arma con il supporto di unità navali, aere e reparti specializzati come lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, nonché unità cinofile per la ricerca di armi, in corso anche decine di perquisizioni. Le indagini coordinate dal procuratore capo Francesco Lovoi, dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti procuratori Gianluca De Leo e Francesca Dessi hanno permesso di disarticolare la famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo che, nonostante i dissidi interni, vede saldamente al vertice il pregiudicato Francesco Domingo, soprannominato Tempesta, già condannato a 19 anni di carcere per associazione di tipo mafioso ed altro, e ritornato in libertà nel marzo del 2015, dicono gli investigatori. Questi i nomi dei 13 arrestati dell'operazione denominata Cutrara condotta questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani. Il provvedimento era diretto anche nei confronti di Benedetto Sottile che però è deceduto nel 2018 a 70 anni. In carcere Francesco Domingo, 64 anni, Rosario Antonino Di Stefano, 51 anni, Camillo Domingo, 63 anni, Daniele Lasala, 40 anni, Salvatore Mercadante, 35 anni, Maurizio Gaspare Moulet, 54 anni, Antonino Sabella, 63 anni, Francesco Sabile, 61 anni, Carlo Valenti, 42 anni, Francesco Virga, 50 anni, ai domiciliari sono finiti Diego Angileri, 83 anni, Felice Buccellato, 79 anni, Sebastiano Stabile, 73 anni.